Un incontro al quartiere Tamburi di Chima Ambiente Amiu, tutta Taranto a raccolta, Tamburi differenzia. Un incontro in cui sono presenti i vertici di Chima Ambiente Amiu nella persona del Presidente Avvocato Mancarelli, le associazioni di rete a raccolta e abbiamo un volto noto, quella della Presidente di Feder Consumatori Antonietta Brigida. E allora vediamo come procede questa attività di formazione e di educazione alla differenziata. Non è semplice. Infatti mi hai preceduto. Non è assolutamente semplice perché i cittadini siamo, noi cittadini siamo abituati in un certo modo. Però è importante battere e ribattere sulla raccolta differenziata. Perché? Per semplici ragioni. Quando si parla di inquinamento e di ambiente, Taranto non è solo Ilva. Ambiente, inquinamento. Dobbiamo dare l'esempio noi stessi perché i problemi ambientali ci sono, però noi nel nostro piccolo dobbiamo dimostrare civiltà. Anche il rifiuto rappresenta un pezzo dell'ambiente. Allora, l'amministrazione di Taranto sta facendo grandissimo lavoro perché si possa arrivare a quell'efficienza della raccolta differenziata. Perché noi associazioni abbiamo aderito? Abbiamo aderito perché siamo convinti che le amministrazioni vanno aiutate con il supporto dei cittadini e delle associazioni per arrivare a quella raccolta differenziata ottimale. Si paga di meno, si hanno le città pulite e c'è un riciclo. Questo significa che un ciclo dei rifiuti non è sempre negativo.